Siamo nel cuore di Oristano, nel quartiere di Subrugu, dove si parla tutto l'anno di Sartiglia. In questo bar storico, bar Subrugu, di Giussi, proprietaria, vengono Robi e Giussi, vengono, torna indietro. Teleregione! 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 Sì, sicuramente è una cosa molto importante. 22 marzo, noi vi aspettiamo, naturalmente ci sarà anche Teleregione, credo un saluto vada grande grande anche... Ridi? Vi aspettiamo 22 marzo, qui a Olbia, per questa grande manifestazione. Vedi che ride lui? Lo vedi che ride? Lo vedi? Vedi che ride? Non sono io, lo vedi? 22 marzo, vi aspettiamo, ci saremo anche noi di Teleregione. Perché le donne vanno via? Perché le donne vanno via? Perché le donne vanno via? Perché? Sì... Buongiorno Michele... Sì.... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 no, fai quello che vuoi, vieni anche a casa mia, ma ti rendi conto di ciò che stai facendo? Io devo ancora rimanere in alto. Io devo ancora rimanere in alto. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.